Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Spero abbiate passato delle buone feste natalizie E spero per chi di voi ha l'opportunità di godersi ancora queste feste Spero vadano tutte bene, che ve le godete al meglio Oggi sono qui in versione molto casalinga O diciamo pile che mi hanno entrato per Natale che adoro Perché andiamo a fare un video di skin care Appunto farò un video di skin care Con dei prodotti che io utilizzo da tantissimo tempo Alcuni di questi li utilizzo addirittura da luglio E sono tutti di Hello Body Infatti questo video è in collaborazione con Hello Body Che ha gentilmente sponsorizzato questo video E sono molto contenta di ciò Perché posso mostrarvi i prodotti Quindi fanno un suono stupendo E posso farvi anche un video di skin care Che è uno dei momenti che più mi rilassa della giornata Io ho anche un codice sconto per voi Con il codice sconto Chiara 40 Avrete il 40% di sconto su tutti i prodotti Ho una spesa minima di 79 euro Quindi è perfetto magari per provare i prodotti Insieme a una vostra amica O vostra sorella O vostro parente Eccetera Quindi mi sembra un'offerta molto buona Cercherò di non parlare troppo Sapete che non sono brava in questo Perché oggi Ho veramente tantissimi suoni per voi stupendi Io non vedo l'ora di farvi ascoltare Quindi Ho già deterso le mie mani E la prima cosa che vado a fare È tamponare leggermente il mio viso Con le mani bagnate Già questo non suono stupendo E vado a prendere Il mio detergente preferito di sempre Veramente Vado a usare questo detergente in schiuma Che si chiama Coco Fresh Ed è praticamente finito Perché Io l'ho amato E ho smesso di usarlo In previsione di questo video Da un po' di tempo Quindi mi manca proprio tanto usarlo Adesso vi faccio sentire il suono Comunque Sa di cocco Tutte le linee a cocco Sa di cocco E mi piace perché è schiumoso Una schiuma densa Fa una schiuma densa E è morbidissimo sulla pelle Deterge bene Non secca E ha questo profumo di cocco C'è proprio un'esperienza Che ti sveglia Nel modo giusto Non saprei come altro descriverlo davvero L'ho ufficialmente Finito Quindi faccio con quello che ho Peccato Perchettere 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 Quindi faccio con quello che Perchettere Perchettere Ferro Perchettere Perchettere Ok, l'ha deterso per ora pochissima per fare del suono Ok, mi sa che mi vado a detergere anche con l'altro detergente perché non era sufficiente Così vi faccio vedere anche l'altro, comunque mi trovo bene Che è l'Aloe Wash Ed eccom'è con la barba Che tra l'altro, vedete, ho messo tanto così di prodotto, guardate qua Fa uno schiuma incredibile E vado un po' con l'acqua a sciacquare Fino a che riesco poi vado in bagno Fino a qui vado a sciacquarmi bene il mio preferito è rimanere il coco fresh purtroppo non ho potuto far vedere poco però alla fine soggiora la wash che è un gel quindi secca un pochino di più andiamo allo scrub vado a usare questo scrub del coco pure detox copy face scrub di hello body questo ha un retro gusto, retro odore di coco soprattutto ha un odore buonissimo di caffè e io vado a usarlo vado a usarlo solo nelle zone in cui ho bisogno dello scrub quindi naso mento è fronte e va usato su pelle umida quindi vado a inumidirmi un attimo queste zone ne ho preso tantissimo e vado a suonare mento è fronte un po' di più e vado a massaggiare sentite tutto il mento proprio sotto la zona T e che è tra l'altro anche questo usato la mattina magari il sabato la domenica mattina non so quando facciate voi la vostra diciamo skin care più approfondita settimanale magari la fate la sera ecco però questo odore di caffè la mattina è wow vado a usare una delle loro spugnette riutilizzabili per togliermi lo scrub dal viso un po' le campane mi hanno appena risposto che sono le 11 e mezza ok quindi questo era lo scrub da applicare insomma una o due volte a settimana in base al vostro tipo di pelle e sono nelle zone diciamo che ne hanno più bisogno non lo consiglio tanto sulle guance le mie tendono un po' a rossarsi quindi non lo consiglio proprio andare lì a spregare poi fate voi un basato tipo di pelle a nessuno Vado con questa maschera detox all'argilla rosa Ho metto ne usato un bel po' Invece questo non lo metto su tutto il viso tranne la zona perioculare e la bocca ovviamente Io la tengo 5 minuti si chiama Coco Walls E nel mentre se il mio stomaco mi dà tregua vado ad utilizzare uno scrub per le labbra Questo è il Coco Kiss No 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 idratante. Questo dentro, insieme ad altri ingredienti, ha puro di karité, olio di cocco e di mantorla e particelle solo 24 carati per un trattamento viso di lusso. Nuotra la perla, rinforza le barriere cutanee e favorisce la rigenerazione delle cellule. Apprire uno spesso strato su pelle pulita e lasciare in posa 10-15 minuti prima di risciacquare con l'acqua. Vado con le mani. E vado proprio così. Coco Luxe. Questa va lasciata in posa appunto 10-15 minuti. Quindi ci vediamo fra poco quando sarà finito questo lasso di tempo. Eccomi tornata. Ora andiamo di tonico contorno, occhi, crema e olietto. E poi abbiamo finito. Parliamo con il tonico. Questo è il Coco Calma. è stato appunto il Coco Calma. con il suo nome. Alcuna goccia sulla mano e una goccia sui pantaloni. ok guarda anche un po' sul collo balsamo labbra cocco orange cocco orange cocco orange cocco orange questo balsamo labbra molto nutriente adatto soprattutto per la sera questo suono non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti e questo è sulla via del gestino ma è quasi finito e questo ti serà detto anche proprio come con maschera è buono perché è un contorno occhi secchissimo bello idratato perdonate i rumori ma non ho alternative veramente cerchiamo di evitare i più rumori possibili vado con la una crema che non è né della linea coco né della linea aloe ma è della linea cara mi sembra che è la linea per pelli sensibili questa crema la adoro perché è una consistenza mista fra il corposo e il gel è una consistenza stranissima che non ho mai visto in una crema sa di vaniglia spumine e vaniglia non saprei come dirlo è molto dolce e idrata il giusto io ho la pelle da normale a secca ad esempio la linea aloe mi idrata ma solo quando non ho la pelle troppo secca la linea coco invece è molto corposa quindi ha da pelle molto secche questa è da pelli normali quindi mi piace un casino no un altro buco non so voi ma io dopo una skin care completa mi sento proprio rigenerata non saprei come dire, veramente mi sento molto 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 meglio tipo dopo essere andata in palestra hai la stessa sensazione di benessere di essersi preso cura del proprio corpo ultimo passaggio, ultimo ultimo sono due gocce dell'olietto questo olio di coco gold quanti le particelle di oro 24 carati ed è un olio che io uso principalmente oggi ho fatto una skin care comunque tra tante quindi non vado solo su tutto il viso a volte non mischio la crema a volte invece dipende dai giorni, dipende da come è la mia pelle oggi invece voglio utilizzarlo come una specie di illuminante infatti voglio utilizzarlo solo qui con tre gocce qui perché non penso mi truccherò o forse mi troverò questo un goccio di correttore e del blush e quindi voglio un aspetto di glow naturale e uso l'olio e quindi Io sono dipendente da questo suono davvero Quasi solo appoggio Mi ho messo un po' troppo, solo che non riesco a vedere le quantità Comunque, vedete? Riusciate a cogliere? Non ce la trovo che sia l'illuminante più naturale di tutti Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto E penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci E augurarvi Augurarvi, augurarvi, augurarvi Una buona, 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 buona notte, sognitor Buonanotte, buonanotte, sognitor Un bacione Che li spera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti